Per la rimozione di materiali contenenti ammianto posti nei prefabbricati in via degli Etruschi a Fratte, l'inizio dei lavori è stato posticipato al prossimo 12 giugno. È stata la ditta incaricata della bonifica a darne comunicazione al Comune di Salerno, secondo la normativa prevista dagli interventi che riguardano la bonifica da Eternit. Annunciato già per lo scorso 24 maggio, il lavoro è stato posticipato perché l'impresa ha dovuto fare i conti con il ritrovamento di rifiuti superiori al previsto all'interno dei prefabbricati sorti dopo il terremoto del 1980, poi divenute case occupate ed infine ricovero per i senza tetto fin quando l'amministrazione comunale di Salerno non è decise la muratura per evitare insediamenti abusivi che generavano degrado e preoccupazioni tra i residenti nella zona. E anche attraverso incontri proprio con i cittadini della frazione collinare, l'amministrazione comunale di Salerno con l'assessore Michele Brigante ha potuto finalmente dare il via grazie ad un finanziamento previsto nel piano di riqualificazione dei quartieri. I lavori di bonifica dall'amianto dovrebbero durare 30 giorni e nel corso degli stessi residenti nelle aree vicine al cantiere dovranno attenersi ad una serie di indicazioni al fine di salvaguardarsi da eventuale pericolo di contaminazione. Tra le misure di sicurezza da adottare per evitare le esposizioni a polveri e fibre che potrebbero aereo disperdersi nel corso delle lavorazioni, i cittadini sono stati invitati a tenere finestre e balconi chiusi durante tutta la durata dei lavori, evitare di tenere biancheria stesa sui balconi, evitare di accedere alle aree a ridosso dell'area di cantiere e comunque alle zone limitrofe all'area di pertinenza del fabbricato interessato dalle lavorazioni.